Prima visita ufficiale dell'assessore regionale al sociale Serena Spinelli all'Istituto degli Innocenti di Firenze che, dopo essersi occupato per secoli di bambini abbandonati, oggi è un'azienda pubblica di servizio alla persona che gestisce il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e un analogo centro regionale. L'istituto offre attività di conoscenza sulla condizione appunto dell'infanzia dell'adolescenza nella nostra regione ma anche il supporto a percorsi, progetti e servizi innovativi proprio per, come dire, mantenere viva questa connessione, questo dialogo fra il fare, quindi servizi operativi per l'infanzia e il conoscere, la riflessione per il loro sviluppo e la loro innovazione. Sono problemi che oggi come oggi dobbiamo affrontare con maggiore professionalità e con maggiore impegno, anche perché il momento in cui stiamo vivendo purtroppo sta assegnando la crescita dei nostri ragazzi, la crescita dei nostri bambini e il nostro impegno è proprio quello, aumentare e dare maggiore sicurezza a questi ragazzi. L'istituto tutela e promuove anche il proprio patrimonio storico e artistico attraverso il Museo degli Innocenti e conserva un imponente archivio storico. C'è la storia di bambine e bambini dal 1400 in poi, credo che questo sia un patrimonio di cui dobbiamo solamente, da cui dobbiamo solamente lasciarci emozionare ma anche continuare a studiarlo, a ricercarlo perché ci sono informazioni incredibilmente che vengono da un passato e che sono talmente tanto utili anche per questo presente. L'infanzia e l'adolescenza saranno ancora più colpite dopo questa fase pandemica. Abbiamo il dovere di avere una luce accesa su quelle che saranno le cittadine e i cittadini del domani di questa regione, del paese tutto.